Salve a tutti! Oggi vi mostro come elaboro la pelle nelle mie foto. È una modifica molto importante, anche perché è facile sbagliare. In base a che tecnica si utilizza, si va a rovinare la texture della pelle, si vanno a rovinare i pori e ogni segno presente. Se per esempio si utilizza una sfocatura anche su maschera, si impiastrano i pixel, si impiastrano i pori, e quindi la modifica risulta banale. Per evitare ciò ci serve una modifica che conservi comunque le caratteristiche della pelle. Incominciamo a sommare i livelli. Finora io ho fatto il filtro RAW e la separazione in frequenze. Allora sommiamo i livelli Command-Alt-Shift e... Mettiamo il livello su luce vivida. Immagine, regolazioni, inverti. Ovviamente avremmo potuto fare semplicemente anche Command-Alt-Shift. A questo punto trasformiamo il livello in oggetto avanzato, che ci permetterà sempre di poter tornare indietro senza dover ricancellare il livello e rifare la procedura. Filtro, altro, accento a passaggio. Ora dobbiamo mettere un numero divisibile per 4, che va da 12 a 24, in base a quanto il nostro ritratto è stretto. 24 potrebbe andar bene, se non fossero per i colori che cominciano a bruciare. Quindi noi per sicurezza mettiamo 20. Poi di nuovo su filtri, stavolta sfocatura, controllo sfocatura, 20 diviso 4, 5. E come vedete, infatti, abbiamo struttura. Nel senso che abbiamo sfocato la pelle, mantenendo intatto i dettagli. Però ovviamente questo effetto, in questa maniera, è esagerato, è troppo. Allora che facciamo? Intanto mettiamo il livello su luce lineare. Apriamo una maschera e la invertiamo. Prendiamo il nostro pennello. L'opacità al 30%. Il colore deve essere bianco, se no ovviamente non si può scrivere sulla maschera nera. E applichiamo la nostra modifica. Io adesso tendo a esagerare, proprio per potervi mostrare poi come questo effetto va a lavorare. Ok. Vediamo. Prima e dopo. Questo è il prima. E questo è il dopo. È un cambiamento netto. Ovviamente io adesso ho un pochino esagerato, eh. Con elmo si potrebbe fare molto meno. O anche mettere soltanto sui punti più critici. Comunque così va bene. E così abbiamo dato la cipria al nostro soggetto. E abbiamo mantenuto intatta la struttura della pelle. Questo è tutto. Se vi è piaciuto questo video ricordatevi di lasciarmi un pollice in su. Magari iscrivetevi al mio canale e seguitemi sui miei social. Se avete domande o avete anche consigli da darmi, scrivetemi nei commenti. Questo è tutto. A presto e ciao. Magari iscriviti al nostro canale. 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 Grazie.